Buche, avvallamenti e il maltempo che peggiora la situazione. Sono tanti cittadini che ci segnalano strade da sistemare e voragini pericolose. Oggi siamo in località Falcineto, nel comune di Fano, dove un residente lancia un appello al comune per sistemare via Torno, che non viene asfaltata, ci ha detto signor Talevi, da circa 40 anni. C'è l'acqua quanto piove, non è che rimane lì, allora crea delle buche. E poi lassù in cima c'è circa mezzo metro d'acqua quanto piove, tutti i due lati. Ed è una strada anche molto trafficata. Molto trafficata, ci sono i camion delle cave che passano in continuazione. Praticamente o togliere l'acqua oppure deviare il camion dall'altra parte. Questi anni avete avanzato delle richieste al comune? No, io ho telefonato qualche volta in comune, ma come parlare col muro. Perché anche il sindaco cammina a piedi, lo vede, ma tante volte al mattino lo vedo camminare lassù. Si spera che possa rientrare nel prossimo piano dell'asfaltatura? Appunto, perché ho visto, infatti su Fanu TV, che c'è un piano di asfaltatura, ma questo non è in programma. E manca anche l'illuminazione? Si, manca anche l'illuminazione, si. Ma è più importante la strada che l'illuminazione. Perché la strada veramente, se uno... Io andavo in bicicletta ho dovuto smettere, perché la strada è... Prendere in un crepaccio è pericoloso, molto pericoloso. Io andavo in bicicletta ho trovato... ...